Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso Come un laccio infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo Pace e bene a tutti voi carissimi amici Il mio cordiale e fraterno saluto Dopo la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo trascorsi gli ultimi giorni del tempo ordinario con la prima Domenica di Avvento inizia un nuovo anno liturgico A differenza dell'anno solare che comincia il primo gennaio l'anno liturgico ha un inizio, un principio tutto suo legato al mistero di Cristo Da questa Domenica infatti ricominceremo a celebrare i misteri di nostro Signore a partire proprio dalla sua prima venuta, dall'evento dell'incarnazione del Verbo Ma questo tempo ha un contenuto soprattutto escatologico Ci ricorda e ci prepara alla venuta ultima e definitiva di Cristo al suo ritorno glorioso Un tempo dunque che illumina l'intero anno liturgico tappa dell'uomo in cammino nella storia finché non si compirà definitivamente il mistero pasquale del Signore Ecco allora che le prime due settimane di Avvento orientano un po' il nostro cammino potremmo dire proprio in questo senso Sentiremo spesso il richiamo alla vigilanza al vegliare nell'attesa del giorno del Signore La prima lettura che ascolteremo in questa Domenica tratta dal libro del profeta Geremia infatti ci introduce proprio in questo clima ricordando che il Signore è fedele alle sue promesse e che farà germogliare per Davide un germoglio giusto Germoglierà colui che adempirà la speranza umana che donerà all'uomo quella pienezza di gioia e di felicità che cerca di fondamentale importanza però è il brano del Vangelo quest'anno leggeremo in modo particolare l'Evangelista Luca in questa prima Domenica di Avvento Gesù dà ai Suoi discepoli delle indicazioni per imparare a cogliere i segni dei tempi e poi aggiunge quando cominceranno ad accadere queste cose risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina quindi l'invito a stare attenti a non perdersi nelle cose di questo mondo e ad essere così pronti all'incontro con il Signore che verrà all'improvviso il Vangelo chiude proprio con una chiara esortazione a vigilare a vegliare vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo questo invito di Gesù è chiaramente anche per noi oggi è facile anche per noi essere distratti dalle cose di questo mondo e a non accorgerci di vivere forse una vita vuota e priva di senso probabilmente ancora prima di perdere l'opportunità di essere pronti all'evento ultimo ci stiamo perdendo l'occasione di incontrare il Signore nel nostro quotidiano di fare già ora adesso l'esperienza del suo amore infinito che questo tempo allora sia propizio per recuperare prima di tutto un autentico rapporto con il Signore già ora e vivere nella carità secondo il suo invito l'attesa della sua venuta ultima e definitiva pace e bene e buona domenica a tutti e buona domenica